In questi giorni di passione, per quanto riguarda la roba delicola che stenta ad arrivare, ormai sono passati quasi dieci giorni da quando ho ritirato l'ultimo albo, e sono in attesa a questo punto di prendere Martin Mister e i bis di Dilan Dog e Giulia, Allora, mi sono comunque permesso di fare un recupero e che, a differenza degli albi che vi dicevo prima, è arrivato veramente in maniera celere. Sono contento, è una bella cosa e soprattutto mi permetterà di leggere le storie importanti. Andiamo in ordine. Dunque, l'altro ieri sera, quindi vale a dire martedì sera, ho seguito un po' di aste online e ne ho individuata una che mi interessava e che ho vinto, al prezzo di 45 euro, che poi è venuta qualche decina di euro in più, circa 60, con le spese di spedizione e le commissioni varie. Ho recuperato dei topolini, ovviamente non è un mistero perché, nonostante nelle ultime settimane abbia anche preso un cofretto di Diabolic e comunque stia leggendo anche altre cose che spaziano al di là del modo Disney e Bonelli, il mio oggetto principale di interesse da qui ad ancora per qualche anno sarà sicuramente il topolino. E così ho deciso di prendere questi albi che poi mi sono effettivamente giudicato e che adesso vi vado a mostrare. Il pacco è arrivato questa mattina, quindi dopo poco più di 24 ore alla giudicazione dell'asta che è stata fatta la sera del martedì intorno alle 20, stamattina praticamente alle 10 mi è arrivato il pacco. Non l'ho aperto, semplicemente ho tolto un po' di scotch perché non mi andava di star lì con le forbici e quindi adesso procediamo ad aprirlo insieme. Da qui già potete vedere qualcosa, lo tiro fuori e contiene dei topolino che si trovano dentro questa busta, questo pluriball. E poi tirandolo fuori, è un po' complicato, abbiamo gli albi che a loro volta sono poi dentro un'unica bustina che poi provvederò a sostituire con tre singole. Tre singole perché sono tre albi. Già si può vedere dalla costina laterale come appartengano sicuramente a quei numeri compresi nella fascia tra il 121 e il 144, quindi siamo nel 1956, in cui il topolino era brossurato ma aveva questi personaggi laterali, tranne in un numero che credo sia il 129, comunque quello natalizio, che aveva una brossura già all'oro, tipica dei giorni di festa. Gli ho pagati la media di circa 20 euro l'uno e secondo me per le condizioni in cui sono è stato un ottimo affare. Questi qua sono albi antichi, chiaramente non dei primi 100, ma siamo giù di lì perché abbiamo il 132, 133 e 134, vi mostro meglio in questo modo, che sono usciti a tiratura quindicinale dal 10 febbraio 1956 al 10 marzo di quello stesso anno, e quello centrale è del 25 febbraio, quindi esattamente 27 anni prima che io nascessi, in quanto sono nato il 25 febbraio dell'83. volume dodicesimo, forse anche l'ultimo, dodicesimo e tredicesimo, no, questo è l'ultimo e dodicesimo e questi sono i due e il tredicesimo, perché erano appunto suddivisi in volumi e sarebbero stati così fino al numero 235 compreso, quando si sarebbe conclusa la fase quindicinale. Vi dicevo che hanno questa brossura laterale, che poi di fatto è soltanto una decorazione, perché poi è un normalissimo albo come poteva essere in quegli anni, con appunto questa brossura attaccata direttamente con la colla all'albo, che aveva circa, qui siamo a 100 pagine, ok, non ci sono spille né altro. Gli albi sono tutti in buonissime condizioni, soprattutto il primo e il secondo, ha qualche difetto che adesso vi mostrerò, ma su cui secondo me si può in qualche modo sovrassedere, o magari sistemare. Il primo, come vi dicevo, è il 132, è uscito il 10 febbraio 1956, 100 pagine, 80 lire, volume 12, numero 132, pubblicazione quindicinale. Quindi 100 pagine, esattamente come i primi numeri, fino a quel momento, a parte un paio alla fine della fascia 90, in cui trovavamo 108 pagine, uno di questi, me lo ricordo, ce l'ho, è il 98. Sono tutti provvisti di bollino, la colorazione chiaramente è solo parziale, quindi in parte in bianco e nero e in parte a colori, ed è in ottime condizioni. Lo apro poco, non perché sia rovinato, ma perché sono albi comunque vecchi e che hanno la loro età. E poi tra l'altro hanno la caratteristica di avere questa brossura, ecco qui c'è il bollino, di avere questa brossura che si usurava aprendoli, quindi meno si aprono meglio è. Si vede in questo giallo di copertina con il retro, con un altro disegno, intervallati da questa brossura, da questa costina laterale, con i personaggi che sono Nonna Papera, credo, Pippo, Paperino, Topolino e Zio Paperone. La particolarità di questo primo albo è la prima parte della famosissima storia Paperino e i gamberi in salmì, di Romano Scarpa, i tessi e i disegni, che oltre ad essere una storia gialla piuttosto famosa, potrebbe anche essere la prima interamente scritta e disegnata dalla Scarpa, non mi sono documentato, sono sincero, prevede anche la prima apparizione di Gedeone dei Paperoni, il fratellastro di Zio Paperone, direttore del giornale Grillo Parlante. E poi abbiamo i giochi di Paperino, Topo Sport, Topolino e il segno di Squid, Paperino e i buoni propositi, amici di Topolino, adorabbi, miniature, le di hop, Topolino club, tip e tap parrucchieri, Topolino e la balena di salvataggio. Per il resto è un albo molto molto simile a quelli della fascia quantomeno 90, quindi dei primi brossurati. Molto bello. Questa storia fremevo di leggerla, questa sera mi metterò lì e me la leggerò assolutamente. Quello successivo, anche in ordine cronologico, è il 133, 25 febbraio 53, volume 13, numero 133, 100 pagine 80 lire, pubblicazione quindicinale. Questo è un po' più rovinato, ha qualche segno di usura. Qua la brossura è un pochettino più larga, ma quello dipende da come siano stati stampati. Dietro c'è il disegno di Paperino con i nipotini, qui c'è un taglio e qui i personaggi sono... c'è qualche... manca qualcosina qui sotto che è zio Paperone. E poi l'albo, ma si sapeva già nell'asta, è leggermente scollato, cioè in parte scollato. Ora, essendo brossurato, potrei anche fare un'opera di restauro e sistemarlo. Oppure fregarmene e lasciarlo così. Diciamo che, se decidessi di restaurarlo, rimarrebbe anche più integro. Anche qui c'è il bollino. È un albo, diciamo, in buone condizioni, non perfette, a cominciare da questo piccolo problemino qua, ma nel complesso è un ottimo esemplare, considerando che appunto ha quasi 70 anni, ne ha compiuti già 68 da 6 mesi, quindi si avvia per i 70, e contiene la seconda parte di Paperino e Gamber Insalmi, seconda e ultima parte. Altre storie, così non mi dicono niente, però sicuramente saranno solo importanti. Quindi questo magari necessiterà qualche piccolo restauro. L'ultimo è il 134, quindi sono tre albi consecutivi. 10 marzo 1956, 100 pagine 80 lire, volume tredicesimo, numero 134, pubblicazione quindicinale. Anche qua abbiamo il disegno in quarta di copertina, in questo caso i personaggi con uno sfondo verde, e l'albo è in ottime condizioni. Questo è sicuramente meglio di quello precedente, anche se in assoluto il migliore mi sembra il primo. Qui c'è qualche usura del tempo. Ecco, diciamo, il segreto di questi albi non è tanto trovarli, perché si trovano, ma si paga l'integrità delle copertine, perché sono piuttosto fragili. Questa, diciamo che, secondo me, è nel complesso in ottime condizioni. E sono albi che hanno dei prezzi che variano dai 40 ai 100 euro, a seconda delle condizioni, a parte il 127 è considerato un numero più raro degli altri, non so quanto sia vero, ma io li ho pagati 20 euro l'uno. Vedete qua le costine. Il secondo, sì, è quello decisamente messo peggio, un po' più scolorito, ma, insomma, non è un problema. Vediamo come... Qui ci sia uno sfondo di rosa, qua di azzurro, e qua di verde. Si nota meglio così. Ah, per quanto riguarda l'ultimo, non abbiamo storie, chiaramente il gamberin salmio è terminata, però abbiamo le confidenze di paperina, e poi altre storie, che andremo a vedere volta per volta. Ah, e anche questo, chiaramente, è provvisto di bollino. Quindi questi qua sono degli albi, che per la prima volta mi trovo ad avere per mano, cioè qualcuno l'ho sfogliato qua e là, però sono i primi che possiedo con questa particolarità, sono appunto poco più di 20, ma di fatto, a parte avere questa novità, che comunque li ha resi un po' più moderni, sono veramente degli albi molto simili a, quantomeno, ai primi brossurati post-spill, quindi diciamo dal 75 in poi, anche perché stiamo parlando di albi che hanno poco più di un anno più rispetto a questi, quindi siamo lì. Nel 56 Topolino era al suo sesto anno di vita, settimo, in realtà, e chiaramente era ancora veramente agli albori. Questo è quanto. Adesso mi impegnerò, poi impegnerò, sarà un piacere a leggere i paperini di gambe di Insalmì, e magari se capiterà l'occasione ne riparleremo. Questo è il mio ultimo recupero, e ci vediamo col prossimo video.